Che ti sei messo nella tasca? Ah no, non c'è niente Adorino adesso ti sei messo una cosa nella tasca Non c'è niente Allora io le cose una volta le spiego, la seconda volta non le spiego più Ci siamo spiegati Adesso vado fino a tre, a tre mi dici che c'è nella tasca Perché è dalla tasca L'altra tasca E' più tardi che ce l'hai in mano Che cosa è semmo? Chi semmo? Chi semmo? Chi semmo è in mano Chi semmo? Sì Chi è nessuno? Chi è nessuno? Chi semmo? Chi stai anzitiamo Non capisco perché, io non posso tenere un topo. Ma che ci devi fare un topo? Oh, cara, ecco, metti anche la cosa. Ecco, grazie. No, 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 no. C'era questa signora che abitava in topo. Tutto quello che ha trovato. Questa signora era quella stronza di tua zia. E non te li dava un po' perché ne avevo ci sentito. Ma no, non ci sembra. Ma io la carica mi portavo con le vete. 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 Tante volte ho detto, ah, vorrei le coniglie per combinare. Le coniglie non sono cose che mi portavo con queste bote. Le coniglie. Allora, siccome io e te a questo momento dobbiamo essere quelli riaperti o non dall'altro, no? Come vedo, secondo me non vale il quattro piatto. Se qualcosa non vale. C'è ripendenza troppo? No, perché? Fabri, se hai ripendenza troppo che dimmi. Non voglio perdere tempo. Dimmi subito questa roba perché non voglio pari in più. No, perché? Non hai ripendenza troppo. Non hai ripendenza troppo. C'hai movimenti politici strani. No, perché? No, perché? Spero che fa la salute. Salute al famiglia. Spero di famiglia. Spero di famiglia. Spero di sognamento. Guardate, niente. Grazie. 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 Bravissima. Ah, fermate, però. Il mio fratello. Guarda, guarda, il quale è il giorno è da? Die, die, non è capito. Guarda, c'è, è stato un po' lì. C'è questo amore? Sì. C'è questo comitato di vita? C'è un briletto? C'è tumore? Le tre reti del gruppo ottengono sul totale ascolto uno share medio del 39.6% in 30 anni, del 39.3% in 20 anni, del 39.4% sulle 24 ore. Ancora migliori i risultati, la fascia commerciale, qui nel 64 anni, con questa figura più interessante per gli investimenti pubblicitari, dove lo share medio del gruppo arriva al 41.7% regalandoci 4.5 punti di vantaggio sulla concorrenza, che diventano 5. Se consideriamo la fascia delle 24 ore, nel quale le tre reti del gruppo arrivano a uno share medio del 42.9% in 30 anni. Sì. Sì. Guarda, se tu lo diciamo ancora, se tu domandi, se devi ben zitto, ma è molto bene! Sì. 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 Ma come sarà? Sì. 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 ma io faccio me, cazzo, mi fai male! Dai, papi, dai, poi fai così! Dai, ci scambiamo pure il pezzo, ci siamo sempre scambiati tutto, dai, forza! Dai, te prego, però faccio così, che so quello che faccio, eh, andiamo qui dentro, dietro, eh! Allora, in costrita e sotto, dai, cazzo! Capito, so quello che faccio, eh! E io devo morire, lo so, devo morire, adesso, devo morire, lo cazzo! Poi la danzone! E io devo morire, lo so, devo morire! Bona田 recovery, la uzora, pericina e buona volta! …! steam bambini… E io, lo so, liquidity! E io lo so, devo morire, ai,boards… Ahaha, pericina… �, Poki Grazie a tutti. Grazie a tutti.